E a questo punto del nostro telegiornale non potevamo non sentire il parere del sindaco di Fano, Massimo Seri, che dovrebbe essere collegato con noi. Buonasera sindaco, buonasera. Buonasera direttore. Allora, dunque, intanto volevo dirle questo. Lei ieri ha fatto la sua relazione all'interno del Consiglio Comunale, una relazione che, come diceva anche Marta Ruggeri poco fa dei 5 Stelle, è stata apprezzata un po' da tutte le parti. Poi oggi, oggi la doccia fredda di Matteo Ricci che fa pensare invece che questa cosa di chiaruccia era un po' tutta una farsa e che voi in realtà siete tutti d'accordo già da sei mesi a questa parte. È così o no? Come stanno le cose? Beh, stanno proprio in modo diverso. Cioè, ieri sera abbiamo dimostrato che non scherzavamo e se no non si spiega un'uscita di questo tipo. E fra l'altro non c'è nessuna novità perché se rileggiamo i giornali e riascoltiamo le interviste dei mesi scorsi, le cose che sono state dette questa mattina si ripetono. C'è la posizione di una città, attraverso il proprio sindaco, che ha delle idee che sono diverse da quelle espresse dal sindaco di Fano, che ieri non solo ha espresso pubblicamente, ma ha scritto in un documento e, devo dire, con molta maturità, condiviso non solo dai gruppi consiglieri di maggioranza, ma anche da una buona parte della minoranza che voglio ringraziare perché quando si parla di sanità, si parla di interessi della città, dobbiamo essere tutti uniti. Io rispetto le posizioni che esprime un sindaco con il quale ci si confronta. Il sindaco di Pesaro ha delle idee che sono diverse dalle mie, le ho sentite anch'io, ma non c'è nessuna novità. Fra l'altro ho visto anche manifesti che parlavano di queste cose, quindi anche chi accusa che ci siano tutte delle strategie dietro, che ci siano dei segreti, mi fa sorridere, è solo un modo sempre per non affrontare le questioni e per dinegrare gli avversari. Anzi, in questo momento, dove io ho dimostrato che non scherzo, mi aspetto vicinanza e aiuto e non critiche sulla persona, perché una città in questi momenti deve essere unita. Allora, per quello che mi riguarda, ho già detto che la priorità assoluta in questo momento è quella di fare funzionare i due presidi ospedalieri e voglio risposte concrete, come in parte già annunciate ieri in Consiglio Comunale dal Presidente. Poi, fino a prova contraria, io parlo con il Presidente della Regione, che ha la delega alla Senità, non è un sindaco collega che giustamente esprime una propria posizione come la esprime il sindaco di Fano. Per cui rimando rigetto al mittente, a coloro che cercano di insugnare cose non vere per mettere cattiva luce, indebolire la posizione della nostra città. Anzi, un'uscita di questo tipo io la vedo come una debolezza, perché hanno capito che Fano non scherza, che è unita, devo dire che ho anche apprezzato l'atteggiamento del Presidente, che ha ascoltato, ha preso degli impegni e poi vediamo nella concretezza se questi si realizzano. Per cui sono determinato sul percorso che abbiamo intrapreso. Poi so benissimo che è una partita difficile, ci si confronta, ci si scontra, però per il resto mi dispiace, ognuno gioca la sua partita. È una partita importante, un sindaco rappresenta il proprio territorio, per cui questa è la mia posizione netta e chiara che ho già espresso ieri, per iscritto, votate in Consiglio Comunale e insomma non scherziamo. Beh ma scusi sindaco, mi perdoni, quindi lei continua e insiste sulla posizione di chiaruccia? Ci sono due posizioni diverse. Il sindaco di Pesaro dice, giustamente lui sta a Pesaro, ritiene che dal suo punto di vista l'ubicazione migliore sia Muraglia. Io penso proprio che non sia la migliore, dico che sono una delle posizioni peggiori. Anche perché mi scusi, Muraglia non è un ospedale unico nuovo, Muraglia è l'ampliamento di un ospedale già esistente. Se si parla di Muraglia non si può parlare di un ospedale nuovo. Si parla di un ospedale che già esiste, quindi verrebbe ampliato semplicemente. Esatto, invece noi pensiamo, se si vuole pensare ad una nuova struttura, si pensa ad una struttura che abbia un respiro provinciale molto più ampio che si rivolge ad un bacino, ad un'utenza di 300.000 persone, 250.000 persone. Quindi va pensato in una strategia e in un'ottica diversa. Ma detto questo, per quello che mi riguarda, siccome sono percorsi lunghi... Però mi perdoni, Sindaco, lei ha detto... Sindaco, scusi, allora facciamo due conti della serva velocemente e poi chiudiamo il telegiornale. Andiamo avanti con il telegiornale. Lei ha detto che adesso servirà l'ospedale 300.000 abitanti, 300.000 persone. Lei rappresenta 60.000 di questi 300 ipotetici abitanti. E gli altri, tutti gli altri, da chi vengono rappresentati? Perché non si sente nessuno? Perché mi pare che sia un po' un uomo solo al comando a continuare a volere un sito, un ospedale che non si farà mai a Chiaruccia? No, si fanno dei tavoli di confronto. Io ho già incontrato i sindaci in più occasioni. Il primo incontro l'abbiamo fatto nel mese di luglio. Ci sono sindaci che stanno ragionando perché in passato sono stati formati documenti che poi sono stati messi nel cassetto. Io invece voglio fare un discorso serio di confronto perché lo stesso discorso si può dire dall'altra parte. C'è una persona da sola che pone una questione e qui c'è un sindaco che non è solo. È con le sue forze politiche, che non sono solo quella di una componente politica. Ieri abbiamo dimostrato che è più allargata, poi si ci credono fino in fondo. C'è un dialogo e ci sarà un confronto. Ripeto, è una partita non facile, questo lo sappiamo benissimo, però per quello che mi riguarda, ripeto, io in questo momento voglio che si riequilibrino le posizioni tra i due ospedali nell'interesse di tutti, non soltanto dei 60 mila abitanti o degli abitanti di peso, di un territorio più ampio. Perché non dimentichiamo che Fano è un bacino che serve tutta la valata del Cesano e del Metaro, con i quali, ripeto, ci siamo visti in più occasioni, con i quali abbiamo ragionato. Grazie, grazie sindaco. E fra l'altro è emersa anche la questione... Domani lei ha una conferenza stampa alle 11 che naturalmente noi come Fano TV seguiremo con molta attenzione. Ritorneremo sull'argomento. Ritorneremo sull'argomento. Ritorneremo sull'argomento. Grazie a tutti.